Il sole ci sorride. Continua il reportage di pesca di Marcello Adamo, che ci racconta le divertenti avventure dei suoi ospiti nelle acque del Golfo di Napoli. Oggi faremo una pesca divertente e rilassante. Ci mettiamo a pescare le sedie. Racconti di pesca e nuovi episodi, dal 5 luglio ogni lunedì alle 21 in esclusiva su Pesca TV. Grazie.